salve buongiorno a tutti belli e brutti soprattutto i brutti che ce ne sono molti me compreso buongiorno amici e non di pes fan club italia alleluia dopo una bella domenica maledetta sotto tutti i punti di vista iniziamo la nuova settimana una nuova settimana dove io fra un po' torno a lavorare anche se non ho mai smesso ma facciamoci un bel video di sminchiamento dove io tra l'altro mi sono dimenticato di fare una cosa allora qui ragazzi chi cazzo vorrei io ve le elenco subito perché non ce l'ho if de bruy la port sanchez rodri minchia di ero ieri lo spieghiere lo svincolato che che sono si so co e h sono sincero ma sincerissimo ma tanto già so chi cazzo mi darà delle minchiate raga figuriamo ci sono uguali 300 punti bonus giornaliero ragazzi saluto tutti ma perché devo fare un video breve posti in arrivo che cazzo sta fabregas minchia 10 preparatori 4 mila fabbrica ma che cazzo me lo fa ma va a cagare ma va bene lo faccio una cosa arrivo subito ragazzi subito 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 andiamo avanti meno ma che mi devo muovere tacci di sto telefono ok avanti allora ragazzi andiamo subito a vedere le cacate di sfide di oggi fate sto facendo una piccola colazione challenge la testa lo smonda il passo acqua e sono tutte uno contro uno abilità vabbè la ragazza e conami grande conami stupenda conami come ho detto oggi in un post viva pes abbassa tutta la comunità di pes ovviamente italiano non posso dire altro andiamo avanti non meriti neanche di essere nominato ma solo essere detto che c'è un pagliaccio e devi crescere abbastanza cresce cresci molto perché non è neanche le palle per i mila scrivo qua sotto cresci molto figlio mio ma che stanno sbondando il palazzo qui abbiamo detto che dobbiamo finire la colazione ormai la mattina siamo ma tu ma ma tutti i miei vabbè come cazzo se desce quello andiamo avanti allora agenti prendiamo sta cacate che cazzo le devo diraga ma è un iconico ma anche l'anno scorso mi sa giusto io lo svincolai subito dopo si è un if non è iconica ma già fare simpoli tu ecco qua fabbili60 perfetto poi pull da no pull da collezione è finita pompare 1 2 3 4 li conic 5 6 c'è qualcuno da poi vediamo allora vogliamo fatti già vedere non ci prendiamo in chiacchiere torniamo indietro si oggi sono di poche parole ragazzi diamo avanti mai è così post domenicale questa ragazza pare che avete visto quello che è successo quello che mi si sono stati detti contro il cazzo ma che cazzo me ne faccio di questo mannaggia vita buona la fin c'era mi faccio il bruto di questa ragazza che come ne ho poco di attaccanti tanto questo è il letteraggio di ragazzi per forza per forza ragazzi lento come il cazzo mio come sempre e vai due cacate su tre prese facciamo tre su tre e mamma con abbiamo completato tanto vai vai manca un giorno mi ha dato che ho detto io allora Tottenham è andato da chi figlio mica però ci sta tant'otto a questo ok e Tottenham tre schifezze su tre andiamo avanti in Manchester ve l'ho detto no vabbè no 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 mo è che mi stai facendo girare i coglioni mo è che mi stai facendo girare è abbastanza e non c'è male e no e mo è e dai, e scusami forza che cazzo è ricalfato ma che cazzo è ricalfato madonna mia la peggiore delle peggiori mi è stata giusto a me non ce l'ho questo rodri, almeno rodri no, Ferran ma vabbè raga dai dai si raga potete dire che puoi arrivare dove cazzo è lì non me ne fotte niente, non mi piace perfetto andiamo indietro abbiamo trovato e detto madonna no no, è male che non ci pensa no, facciamo così facciamo prima visto che non me l'hai dati mannaggia l'amore guarda, è pazzesco 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 tiè, vai a fare incontri 5.000 perfetto perfetto così grazie Konami fuori uno poi non me l'hai dato guardatelo non ho parola non ho parola non ho parola vabbè glielo vuoi da damagnà stava a 34 livelli poi l'altro che voleva era questo ve lo dico dove sta questo qui e non me l'ha dato e va bene così sì poi avevo che avevo non avevo nessuno mi sto inventando io una puttanata andiamo avanti sì so come ha dato minchia sì so ecco dovrei averlo uno ma anche no mi sa ma è questo sì vediamo lo torniamo indietro ma che mi fa andare là vediamo quanto gli da visto che stiamo sì sì brutto alla faccia tua chighiamo vediamo 20.000 perché perché ce l'avevo che devo fare che devo fare mi faccio il brutto mi faccio il brutto mamma mia spesso ce l'ho e lo allineiamo poi fabbra madonna mia ma come si fa fabbra vabbè cls boh vabbè fernand torres è un cl2 di bruraga madonna mia cioè non mi ha dato tutti vabbè famsi di cheat queste cose un alla prolifica ce l'avevo vediamo questi che sono li vediamo tu da magnà no aspetta no oh madonna mia taglia al centro ti pareva registrativo ti pareva registrativo alla prolifica meno uno registrativo creativo alla prolifica e il giocatore chiave boh uno e il due dai e mi fa tornare qua beh già ieri ragazzi ne ho buttati una ventina di giocatori ve lo dico inutili androni anche nelle simili farò giocare quindi allora primi diamo a questo 1248 5 livelli è rimasto sempre là ammazzo non salire di più eh perché sta scherzando 1296 perfetto ragazzi perfetto sta andando alla grande queste cose taglia al centro scommetto taglia al centro quindi vediamo regista creativo alla prolifica ma il contrario di quello che mi serviva più guardato no raga non ci credo che è questo terzino mattatore regista creativo perfetto tu alla prolifica e sono arrivata jumping con cazzo vabbè poi valto con calma cosa fare ragazzi madonna abbiamo trovato due le sono a the bread e si so perfetto poi can sanchez 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 e son niente ragazzi spacchettate di merda ragazzi e noi che ci stiamo a girare intorno spacchettate di merda punto 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 queste cose un opportunista di hop e di e lo vedete di e raga l'avevo conservato un'attività un cincin con triste ma il cazzo c'era un cincin con triste la porta chiudo la porta niente raga pure la porta mi ha dato inutile che era sviluppo francese lo dotte vaffangula la porta 9 mila con seve con seve la fine ti dà un cazzo questa bagascia di conami o 21 su 28 ancora ma no questo non è di er niente ragazzo dicendo cazza sarà il fratello questo è di er incontrista a niente ho detto delle cazzate chiedo chiedo scusa a tutti quindi dovrei avere camper boh vedete gli basta mille dopo un piano il dalla 700 mila punti 2006 vabbè da 95 o se è anche cosa abbiamo finito poi abbiamo cc tra le linee cc tra le linee spagnolo cc tra le linee spagnolo cc tra le linee spagnolo a me che arriva 90 80 non ancora sapete perché perché non lo so ma la vede un po bagattino questo francese ogni no questo non è francese no chi è ok tornami indietro vado che pallo ogni volta ritorno all'inizio 2008 89 ancora o mi ha rotto i coglioni ma quanto cazzo arriva sta schifezza di giocatore che vediamo 80 anni mi stava sulle palle l'abilità mica non ha niente che intercettazione va benissimo poi questa fa cazzata che non lo puoi io tutti che non lo puoi perché veloce non li puoi assommare le abilità è una grandissima cazzata di mamma conami raga vabbè fabia luce lung tra le linee spagnolo 4.400 23 su 30 arti dopo la te un 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000